Ciao a tutti da Varmi Mare da Paolo Benvenuti in questo nuovo video acquisti Abbiamo fatto... Ci sarà una novità... Non sappiamo quando Non svelare niente Non svelare niente Ci sarà una novità Ma non c'entra niente con questo video No, sui personaggi Che siamo noi? Allora, benvenuti in questo nuovo video Questo è un video pazzesco Dove vi mostreremo gli acquisti fatti da risparmio casa Attenzione, gli acquisti che Paolo ha fatto da risparmio casa Perché io oggi, mentre lavoravo Lui, tutto contento, è andato a fare la spesa da risparmio casa E addirittura ha fatto una mega, mega scorta Perché ha trovato un prezzo imbattibile E allora... Eh, non si sa se è imbattibile Bisogna vedere dall'altra parte Sì, però io non l'ho sentito più Cioè, questo prezzo sulla carta Io non l'ho distrutto da nessuna parte Buoni prezzi Quindi, partiamo subito Abbiamo qua una montagna Una torre Una torre di carta di tutti i tipi Tra l'altro E allora Amore, vai Fai vedere cosa hai comprato Allora, questo qua Eccolo qua Il prezzo l'ho segnato qua io Due rotoli Due maxi rotoli di asciugatutto 160 strappi Cada uno Profumata a limone Due Sì, sì È profumata a limone ed è pure decorata Tre veli Quindi Non sappiamo ancora la qualità Però tre veli Alla bellezza di Di Alla bellezza di Un euro e ventinove Un euro e ventinove Un euro e ventinove Un euro e ventinove Ormai non si prova più a questo prezzo Infatti In sconto ovviamente Sì E ne abbiamo presi Cioè, non presi Ne abbiamo presi Uno Due Due E tre Maxi Maxi Sembriamo quel camioncino Che c'è sempre alle fiere Sai quello Alle fiere Dell'estero Dei paesi Quello che è No uno No due Ben sì Tre E mi ci metto insieme Ben sì Tre E non mi ci metto insieme niente Vado Ok Comunque Sei rotoli adesso A un euro e ventinove Cada uno La coppia Per un po' Siamo tranquilli Sì Poi Poi ho preso Due tipi di Due tipi di carta Di carta igienica Vabbè Questa è già buona Smisurata Smisurata vuol dire Che ci sono tanti strappi Smisurata perché sono Quattro rotoli Due mila strappi Quindi immagino Che ci siano Cinquecento strappi A rotolo È bella pesante Ce n'è di carta Non è finta Allora Ci sono quei rotoli Che sembrano grandi Esatto Ma poi sono arrotolati male Tutto Non pesano niente E quelli là Praticamente amore Tu li capisci Quando stringi il rotolo Questi siamo Se stringiamo il rotolo E si schiaccia facilmente Vuol dire che non c'è nulla Alla fine lì Invece qua Lo sto schiacciando bene Non si In questa bella bilancina Vi dico anche quanta carta c'è In un pacco Ma perché è bella pesante Ora non è che saranno 5 kg Però sono La bellezza di La peso E ora pesiamo anche l'altra Perché ne ha presi due tipi Seicentonovantotto grammi Confermo Settecento grammi Quindi settecento grammi Diviso quattro Ho fatto un po' il contro Il prezzo questa? Il prezzo questa sì Questa viene 1,69 Contro 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 Tre veli Al prezzo di L'avevano già detto? Sì l'ho detto io ma lo puoi ripetere 1,99 Pesala Ora sono curiosa Sì Vabbè pesiamo anche quelle 1,69 690 grammi Adesso poi vi faccio vedere Perché si chiama grandissima Questa è 1,99 711 grammi 21 grammi In più 30 grammi in più 30 30 30 grammi in più 6,90 era Sì difatti Quindi Ah è 20 21 grammi in più E 30 centesimi Però guardate la differenza Quanto è alta questa? Ma io ve la sopporto Sono pari qua sul tavolo Quindi sono pari anche qua Voilà Vediamo questa contro Qui Vi tenete le dita al sicuro Io non ho detto niente Schiaccia Vediamo com'è Eh sì è bella compatta Bella compatta come sta qua A me piace tantissimo questa Perché è bella larga A me no Ecco infatti Paolo Ha deciso di prendere La smisurata Un pacco sodo È di grandissima Tanto che Mentre delle altre A 1,99 Ragazzi Quattro rotoli pesanti così Altri supermercati La vendono anche a 4 euro È vero 3 E ben 4 Alla faccia mia Qua ragazzi Possiamo Alla faccia mia Andare allegramente Basta Fermatelo Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Fermatelo Poi Voilà Poi Spengo la bilancia Bene Perché da buon ligure Le batterie si consumano Vai Ho comprato questo perché mancava in casa Il mini Pimer Il mini Pimer Il frullatore ad immersione L'hai preso giallo Bravissimo Alla Girmie Quindi Rimarca L'hai pagato? 250 watt il motore Non I più tanti sono 200 Ha 4 lame in acciaio Il corpo è in plastica Logicamente C'ha il gancio Per poterla appendere Alla funzione di pulsazione Di puls Vai nel concreto 9,90 9,90 E va bene Sembro compresso Sì È un girmie E re lo ferma anche questo Bello, bello, bello Mi piace Ma perché non lo possiamo aprire Scusa un attimo al volo Un attimo Un attimo così Ve lo facciamo vedere Lo vediamo anche Bello Un bel giallo Davvero È ancora più bello Che dalla scatola Eccolo È ancora più bello Sì È un bel giallo Bravo Ok Bello Ah lo scontrino Però bisogna tenerlo Per la garanzia Per la garanzia di anni Ovviamente non è troppo Se si rompe Justamente Ok vai amore Continua tu Mentre io qua Mi sistemo Questa ricarica spray Di profumatore Per quegli erogatori A batteria Che però Ha detto che me l'hai pagato poco Ma questo allora Sinceramente lo trovi anche meno Specie dai cinesi Qua non entra più niente Niente terra Però Non so se la quantità è uguale Questa anche questa è bella Bella pesante Amore Quello è 250 ml Risparmio a casa Sì 1,79 Se tu prendi uno dei cinesi Poi qualcuno l'avrà già fatto Uno dei cinesi Che è 250 ml È uno Di marca Cos'è la marca Erwik 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 Tropicale Di fatto è tropical fruit Vai Poi passiamo ai suoi amatissimi Cotton fioc Ho fatto la scorta di cotton fioc Scorta Due scatole uguali Quindi Di questo jumbo Sempre marchio Risparmio casa Sono Sono 128 bastoncini Al prezzo di 1,19 Cada uno Bravo A me piacciono Perché sono belli Belli trugni Belli tosti Spessi Forza Sì E non hanno La capocchia di Cotone Né troppo fine Ma nemmeno quelle grosse Così che Dove te le metti Nell'orecchia Entrano male Bene Poi Io non lo sopporto Sto peccia azzurra Però Tu sei fissato Madonna Io prendo tutto Peccia azzurra A me piace tantissimo Questo qua Ha un buon profumo Perché Cos'è Mente e lime Ed è antibatterico Antibatterico Scorta anche qui No scorta Sì vabbè No ho presi due Uno da tenere in bagno Uno in cucina Da lavandino Allora non è scorta Quindi Al prezzo di Che l'ho segnato sopra Perché è plastica Non si scriveva Uno e trentanove Ma è un risconto No questi sono il prezzo classico Questo è un prezzo tutto l'anno Perché lui è fissato Con felce azzurra Quindi non guarda prezzo Comunque Uno e trentanove Il classico Trecento millilitri Anche per Anche questo Per me è un buon prezzo Poi Poi ancora Cambiamo marca Cambiamo marca Quindi la morbidente Non più Felce azzurra Ma Felce azzurra Argan Argan e vaniglia Nuovo C'è scritto Nuovo Perché È nuovo Nuovo per me Nuovo per noi Vabbè dai 38 lavaggi Ma perché 950 millilitri La profumazione Il prezzo L'ho segnato L'ho segnato Lo sai che non l'ho segnato L'ha segnato lui per la prima volta No Non l'ho segnato Lo vado a cercare Non l'ho segnato Ve lo dico Vabbè intanto Ah eccolo qua L'ho trovato 2,39 2 euro E 39 950 millilitri Ripeto 38 lavaggi Che poi a me dura 10 Non so perché Perché ne mettiamo Perché riempiamo la vaschetta Pino all'orlo Ok Non mettiamo un tappo Poi Un altro prodotto Fantastico Che io già gliel'ho mostrato In un vlog Ah sì Nel vlog Amici miei Andate a guardarlo Quello che si intitola Adesso Se non erro Vlog da casalinga Però nell'anteprima Vedete scritto Tutto il giorno da sole All'improvviso Arriva lui È stato È stata una giornata bellissima E poi il momento In cui è arrivato lui Fantastico Andate a venere Perché poi scoprirete il perché Andate a vedere quel vlog Se magari non l'avete visto Vabbè Io trovo Che sia un prodotto Veramente valido Veramente valido Ma valido perché Guardate un po' la marca Valido No però Porta bene questo nome Una buona profumazione Ah Per chi allora Si è perso È praticamente Un Protegge È praticamente Protegge Dal calcare Dai cattivi odori E poi anche Igenizzante Perché se leggi C'è scritto Igeni power Fiori di primavera Molto buona Profumazione Veramente buona Prezzo amore C'è in due Profumazioni Mi sembra Verde Non so che Non l'abbiamo preso Ma non mi piaceva Tanto Prezzo 2,99 2,99 euro 1,5 litri 1,5 litri Qua ce n'è Di solito non arrivano mai A un litro Come tipo La morbidenza 2,50 euro Voilà Che quello lì Praticamente Soperisce Al caldo Esatto Valido Poi Abbiamo finito Con il risparmio Casa Ma non con il video E si amore Tutta la caldo Tutta la caldo Tutta la caldo Totale Fai vedere lo scontrino Sì Sulla tua Sì Finito Amore Totale di 35 euro E 75 Dove più Qua L'hai pure cerchiato Bravo amore E poi Vi facciamo vedere Quattro picchette Che sempre Paolo oggi Da solo E' andato A trovare Al supermercato Perché qua ragazzi Si spende troppo Tutti i giorni Bisogna comprare qualcosa E amore mio Quindi Calmieremo un po' Ma questa Vabbè Questa è porcaria Te la faccio vedere Ma Mi vergogno quasi Andiamo a vedere Aspetta Falla passare da sotto Falla vedere Io non lo dico A 2,69 euro Io non ho mai Acquistato questo prodotto Nemmeno io Ma oggi a lui Gli andava così Latte di filiera In polvere C'è qualcuno Di voi Che Usa questo Latte di filiera Marca In Alpi Marca Appunto Latteria In Alpi 300 grammi Due cucchiai Più una tazza Di acqua Equivalgono A una tazza Di latte Però magari C'è chi lo usa Ma perché Io vado amato Per le galattine Allora ho visto questo Se lo usate O l'avete mai comprato E magari L'avete più Reacquistato O continuate A riacquistarlo Fatecelo sapere Nei commenti Perché noi Siamo molto Curiosi Sempre Di ciò Che voi Ci scrivete Poi 5 buste Di Cioccolata Preparato Per cioccolata Calda Calda Densa Tipo Ciobar Marca Cop Cop 5 buste Quindi 5 tazze 90 centesimi 90 centesimi Questa è buona Adesso che fa freddo Che fa freddo E c'è vento Poi Infuso E' il mio marchio preferito Degli infusi Quindi tisane Pompadour Io adoro Facciamolo vedere dritto Così si legge Ciliegia E fragola Ciliegia e fragola Qua ci sono Penso 20 bustine E' buonissima 20 per 3 grammi Totale 60 grammi Poi pompadour Capisci bene Senza teina Quindi per chi Per chi soffre La caffeina O la teina Dopo un certo orario Del pomeriggio Perché poi non fa la nanna Io Prendo un caffè A 4 del mattino 5 minuti dopo Russo E basta Prezzo Eh questa è un po' caruccia 2,99 Sono sempre care tutte 2,99 Poi Poi Questa è l'ultima cosa L'ho presa perché Mio fratello mi ha detto Guarda che non c'è lo zucchero Qua dentro Negli ingredienti Non c'è lo zucchero Che importante Che dice Che c'è ovunque Che dice mio fratello Perché è molto 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 Puntiglioso Legge tutti gli ingredienti Da dove arrivano La filiera Tutto Tutto Dalla razetta Qua non c'è lo zucchero Fette integrali Biscottate Della Molino Bianco In confezione Grande Da 600 Biscotto Tra l'altro Da 630 grammi Allora ho visto La confezione Metà Che è 315 Quelle piccole Viene 1,69 Ok Questa Quindi Per 2 Già siamo A 3,40 euro Invece Anciché aggiungere 1,69 euro In più Hai aggiunto 3,38 2,99 In sconto Ma in sconto Ancora Per i soci Meno 0,30 Totale 2,69 euro E vi confermo Che negli ingredienti Non c'è lo zucchero Ah Notare anche Che la farina integrale Di grano tenero È 99 grammi Su 100 Quindi C'è Difatti poi c'è Come secondo ingrediente Lievito Olio di girasole Destrosi O sale Estratto di malto Dorso E mais Stop Non c'è lo zucchero Se questa spesa È quella Che Paolo Ha fatto Da risparmio casa Vi è piaciuta Lasciateci like Mi raccomando E commentate Commentate Perché lo sapete Che vi rispondo Sempre E ogni qual volta Mi mandate i saluti O gli auguri Come per Natale O per il nuovo anno Anche a Paolo Io glielo riferisco Sempre Quindi ogni qual volta Io rispondo a voi Con i commenti Non in singolare Ma in plurale In plurale E perché ho chiesto Anche a lui Quindi commentate Commentate Cioè glielo ho detto Anche a lui Commentate Commentate Perché vi rispondo Sia a nome mio E quando lo citate Anche a nome di Paolo Vi mandiamo un bacio Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E attivate le notifiche Così YouTube Vi informa Ogni qual volta Pubblichiamo Un nuovo video Vediamo appuntamento Al prossimo video Sì E ricordatevi Che Paolo Vi ha già preannunciato Che ci sarà presto Una novità E già ride Perché già Sta immaginando Io la so Ma È veramente Una cosa Favolosa Mi raccomando Mi devo preparare Però per farlo Perché Devo essere pronto Rimarete collegati E attivate Queste benedette notifiche Mi raccomando Ciao Ciao Ci vediamo In un prossimo video Grazie per la compagnia Ciao